pensate ci stanno sti quattro ragazzetti uno di loro si chiamava si chiamava si chiamava tu che sei esperto si chiamò tu che sei esperto si chiamava si chiamava George Harrison che no questa non fa ridere veramente no questa veramente è una cosa veramente insomma dammi la mano pure te almeno uno di questi ragazzi George Harrison un giorno scoprì l'ukulele glielo regalarono e lui lo sapete che cosa fece comprò una marea di ukulele riempì la sua macchina la storia dice addirittura che le regalava ai suoi amici perché perché un giorno scrisse di proprio pugno una lettera scrivendo che chiunque dovrebbe avere un ukulele perché è uno strumento che non si può suonare senza sorridere noi questa sera ci abbiamo provato a far finire un po speriamo di esserci riusciti vi facciamo ascoltare Hey Jude applauso grazie Dove sti iniziamo? Hey Jude don't make it bad ah questa sta per l'inglese eh Dio è una piaccia non ti è una piaccia che bensate domain è forte e tornare con l'inglese eh E ora rendiamo bene e la pante E poi lo amo come hai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti